Musica Celebrazioni in tutta Italia per il 79esimo anniversario della liberazione dal nazifascismo. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dopo aver deposto la corona al sacello del milite ignoto in Piazza Venezia a Roma, si è recato a Civitella in Valdichiana, in provincia di Arezzo, che il 29 giugno 1944 fu il luogo di un uccidio nazista di 244 civili. Presenti in Piazza Venezia a Roma le più alte cariche dello Stato, la Premier Meloni e i Presidenti di Camera Senato Fontana e La Russa, insieme al Ministro della Difesa Guido Crosetto. Manifestazioni si sono svolte in tutta Italia, alta tensione per i due cortei organizzati nella capitale da Brigata Ebraica e dai pro palestinesi. E' ormai una questione europea il caso di Ilaria Salis, la cittadina italiana attualmente in carcere in Ungheria, con l'accusa di aver partecipato all'aggressione di militanti neonazisti, che è stata candidata alle elezioni di giugno d'Alleanza Verdi Sinistra. Suo padre Roberto è intervenuto al Parlamento di Strasburgo, affermando che l'obiettivo di Ilaria non è ottenere l'immunità parlamentare, ma un processo equo. Intanto però non potrà fare campagna elettorale. Lei è chiusa dentro una cella 23 ore al giorno, con un'ora d'aria, ha 70 minuti di comunicazioni alla settimana, ovviamente non ha possibilità di portare avanti la propria candidatura come si deve. Il caso ha assunto rilevanza internazionale dopo le immagini in cui Salis compariva in tribunale a Budapest con guinzaglio e manette a polsi e piedi. Condizioni in linea con la legge ungherese, afferma l'eurodeputata del partito al potere, Fidesz, Eniko Gori, che contesta anche le accuse sulle condizioni carcerarie inadeguate. Io non credo che ci siano problemi o le condizioni siano peggiori che in altri carceri. Una cosa è vera, questo non è un castello e non è un hotel di 5 stelle. Ilaria Salis rischia fino a 24 anni di carcere e secondo il padre è determinata in vista delle elezioni. Il Parlamento europeo intanto ha approvato l'ennesima risoluzione in cui deplora la violazione dei diritti fondamentali in Ungheria. Centinaia di veneziani hanno protestato giovedì contro la nuova tassa d'ingresso in città ritenendola insufficiente a risolvere i problemi. Giovedì 25 aprile ha debuttato il biglietto d'ingresso da 5 euro per i turisti che visitano Venezia in giornata. Le autorità sperano che freni il turismo di massa e il sovraffollamento della città dei canali. Venezia si salva dando casa ai residenti, ripopolandola. Il ticket va semplicemente a contrastare un turismo giornaliero. Non influisce minimamente sui grandi flussi che arrivano dall'est, dalla Cina, dall'America, per cui non cambia assolutamente nulla. I turisti stranieri si sono detti più o meno soddisfatti della misura, meno gli italiani. C'è chi critica il fatto di doversi registrare sulla app anche se si è esentati dal pagamento, come residenti in Veneto o chi per notte già versa una tassa di soggiorno. Ha dovuto pagare il biglietto circa un decimo dei centomila visitatori registrati. Una bella notizia per i siciliani. È cominciato l'iter di discussione della mia legge sulle comunità energetiche in commissione attività produttive. Un passo in avanti verso la promozione delle energie rinnovabili. Le comunità energetiche sono appunto un sistema che consente ai cittadini di produrre e condividere energia per essere energeticamente autonomi e per rendere il nostro pianeta sempre più sostenibile. Sono molto soddisfatta. Ringrazio il presidente l'onorevole Vitrano che ha calendarizzato prontamente il disegno di legge. Quindi comincia questo nuovo percorso e vi tengo chiaramente aggiornati. I carabinieri della stazione di Vitrano hanno arrestato in fragranza un 31enne del posto con precedenti polizia responsabili del reato di maltrattamenti in famiglia. Alla base dei litigi un pessimo rapporto con tutta la famiglia, madre, fratello e sorelle. E la continua pretesa di denaro nei confronti della madre, spesso degenerata in vere e proprie aggressioni fisiche, accompagnata anche da minacce di morte. Alle 13 circa è giunta alla centrale operativa carabinieri di Paternò una richiesta telefonica di aiuto di una donna del posto di 59 anni, che disperata raccontava di essersi barricata nella sua camera per sfuggire alla furia del figlio. Nel frangente una pattuglia della locale stazione ha quindi raggiunto in una mangiata di minuti l'abitazione, chiedendo anche supporto di altri colleghi. Ad aprire la porta di casa, proprio la donna, che terrorizzata dall'idea che il figlio mettesse in pratica i minacci di morte, era uscita dalla camera da letto soltanto quando aveva visto arrivare i militari dell'arma e li stava attendendo all'ingresso. La malcapitata, ancora agitata per l'accaduto, si è aperta ai carabinieri raccontando che tutto era iniziato poco prima con l'inesima richiesta da parte del figlio di denaro. La donna però, avendo timore che il figlio potesse far uso di droghe, si era rifiutata di consegnargli quanto richiesto, chiudendosi infine nella sua stranza e gridando che avrebbe ammazzato chiunque si fosse presentato, anche i carabinieri. Questi ultimi, dopo vari prolungati tentativi di persuasione, sono infine riusciti a fruscire spontaneamente il 31enne. L'armato l'esagitato e messo in sicurezza la donna, i carabinieri hanno iniziato a perquisire la camera da letto del giovane, scoprendo la presenza di due coltelli da cucina, entrambi con lama di 19 cm e lunghezza totale di 31 cm. Un bastone di legno di cica a 75 cm, a cui era stato realizzato un impugnatore in gomma tutto sequestrato. L'uomo arrestato è stato sottoposto dal carabinieri a disposizione delle dotere tra giudiziari, che ha disposto per lui la postura di cautelare in carcere. I carabinieri, il nucleo radiomobile del comando provinciale di Catania, hanno denunciato un autotrasportatore, il 53enne di Pedara, trovato ubriaco alla guida. A mezzanotte circa, la centrale operativa dei carabinieri di Catania ha ricevuto una richiesta di intervento il suo tir, assumendo addirittura un atteggiamento scontroso, quando gli è stato chiaramente negato la salita a bordo. Chiarita la situazione, veniva quindi disposto l'intervento della gazzella, che nel giro di pochi minuti raggiungeva l'area portuale e rintracciava l'autista esagitato. Sin da subito, dopo un primo scambio di battuti in cui l'uomo pronunciava frasi sconnesse, negando di aver preteso di imbarcarsi senza biglietto, i carabinieri hanno notato che dall'autista proveniva un forte odore di alcol, motivo per cui si decideva di sottoporlo a controllo con l'entilometro. Immediato a quel punto il ritiro della patente di guida e del ferimento all'autetà giudiziare, mentre il camion veniva affidato ad un altro odista della ditta proprietà del mezzo che veniva contattato e fatto affluire sul posto. Con l'arrivo della primavera due giovani donne avevano deciso di rifarsi il look a cominciare dagli accessori, senza però avere l'intenzione di pagare la merce. Con questa volontà, appunto, l'altro pomeriggio, i ragazzi erano entrati in un multistore di via Gabriele D'Annunzio e avevano cominciato a provarsi agnelli e orecchini e anche articoli per capelli. Dopo aver scelto quanto di loro gradimento, le due si erano quindi appartate in un angolo del negozio per rimuovere i dispositivi anti-taccheggio, nascondendo poi gioielli nelle borse. Le due ladri, però, non si sono accolte che il sistema di videosorveglianza le stava riprendendo e che il responsabile dell'attività commerciale ha cortosi del furto in atto e aveva già avvisato i carabinieri. Convinte di essere uscite nel loro intento, le giovani donne avevano così tentato di guadagnare l'uscita superando la barriera casse con nonchalance, ma di fronte a loro si erano trovate la pattuglia del nucleo radiomobile. Ormai scoperte le due stranieri di 26 e 33 anni, già gravate da svariati analoghi precedenti di polizia, hanno quindi tirato fuori dalle borse tre paio di orecchini, quattro anelli e un fermacoda per un valore di diverse decine di euro, confermato che non aveva avuto alcuna intenzione di pagare quanto trafugato. Le due complici sono state quindi arrestate per tentato furto aggravato in concorso, mentre i bisogni trovati sono stati restituiti ai responsabili del negozio. Un dipinto di Gustav Klimt, che si pensava fosse andato perduto, è stato venduto all'asta a Vienna. Il ritratto della signorina Leiser, questo è il nome dell'opera, è stato aggiudicato a un acquirente non identificato per 30 milioni di euro. Il prezzo di vendita ha stabilito un record d'asta per l'Austria. Il quadro era stato commissionato da una famiglia di industriali ebrei. Grazie a tutti. Grazie.